Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con un video in cui faremo insieme una parrucca per una bambola che ovviamente dovrà essere senza capelli o a cui saranno stati tolti in precedenza. Per iniziare prendo un pezzo di pellicola trasparente e lo avvolgo completamente la testa facendolo aderire bene e lo fermo con un elastico sul collo. Grazie a tutti. 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 facebook e su instagram trovate come sempre qui sotto i link ai miei social intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo il prossimo video